Super lusso per la diretta di canzone segreta. Una messa in onda entusiasmante e ricca di forti emozioni. Sulla sedia bianca dello studio di Rai Uno tanti ospiti e incredibili sorprese, rese possibili anche grazie alla musica, canale d'eccellenza di battiti e vive emozioni. E la padrona di casa non poteva che mostrarsi nel pieno del suo splendore. Pura luce, non ha badato a spese. Il pubblico italiano ha avuto modo di apprezzarla con la messa in onda di una fiction di grande successo, ovvero Mina Settembre. È già super apprezzata da numerosissimi fan e non poteva essere da men sul palcoscenico dello show Canzone Segreta. Programma. E se abbiamo avuto modo di apprezzarne la bellezza e la semplicità accanto ad Amadeus che l'ha voluta ospite della Kermes nella serata conclusiva, anche per il suo show il look è stato curato nel dettaglio. Sette ospiti per lei e in studio. Pronti a godersi dalla iconica poltroncina bianca le sorprese tradotte attraverso il linguaggio della musica. Brani che si miscelano ai ricordi, quelli più belli, e una luminosa. Merito anche del vestiario elegante e degli accessori extra lusso che illuminavano ulteriormente la sua immagine. In primo piano l'abito etro-strepless in velluto di seta verde smeraldo con tanto di ricamo in bagliette cristalli sul corpetto. Punto ma il lusso non si è fermato all'abito in velluto con tanto di spacco vertiginoso. Il dettaglio come sempre ha fatto la differenza ed è stato impossibile lasciarselo sfuggire. Infatti a completare il look non sono mancati i sandali in vernice nera e tacco stiletto, modello guendile sila dal valore pari a 546 euro. Il vero tocco di classe, in perfetta linea con le tendenze del momento, sono stati i gioielli. Dello stesso brand scelto per la serata finale di Sanremo, ha affidato a Crivelli il colpo decisivo. Splendidi e raffinati il kefi in oro bianco con diamanti a goccia. Il modello è lo stesso che l'attrice e regista Mona Fastwald ha scelto per il di Venezia. Si gioca in casa, dunque, ma con lusso. Realizzati i miei gioielli hanno un valore notevole, ben 26. 830 euro. Pubblicato il 13 marzo 2021 alle ore 14 e 37 modifica il 13 marzo 2021 alle ore 14 e 37.